Una seconda edizione che ha sì avuto successo, ma non ha chiarito i dubbi. È più un percorso di fede o più un percorso culturale? Il cammino lungo la via francigena, iniziato sabato 3 settembre e conclusosi mercoledì scorso, è stato vissuto secondo la sensibilità di chi vi ha partecipato. Tutti però sono concordi su una cosa, è stata un'esperienza fantastica, da ripetere assolutamente. Anche perché con questa iniziativa la Camera di Commercio di Frosinone ha fatto in modo che si scoprissero luoghi a volte sottovalutati della stessa provincia ciociara. Qui la cultura, qui la scoperta di luoghi e tradizioni. Poi la conclusione in Vaticano, in piazza San Pietro, dinanzi ad un Papa amatissimo che ha salutato i pellegrini, qui la fede. Ognuno ha vissuto questa esperienza a seconda del proprio spirito e del proprio animo. Il cammino è partito da Monte Cassino con la benedizione di Padre Abate. A piedi, talvolta aiutati dalle quattro ruote nei tratti più impervi, i pellegrini hanno visitato luoghi nevralgici dal punto di vista religioso della provincia di Frosinone, da Aquino a Paliano, da Gallinaro a Veroli, passando per Anagni per assistere ad uno spettacolo del teatro medievale rinascimentale o per le terre del cesanese e le degustazioni tipiche del posto. Nella giornata di martedì, il sorpasso dei confini tra le province di Frosinone e Roma, con l'arrivo a Castel Gandolfo, lo spettacolo di musica popolare a Trastevere, fino ad arrivare in piazza San Pietro per l'udienza del Papa, mercoledì 7 settembre. I pellegrini hanno potuto contare sulla presenza costante di soccorso alpino e protezione civile che hanno vigilato sul loro cammino. Teleuniverso proporrà uno speciale sulla terra dei cammini verso la Roma cristiana giovedì 15 settembre a partire dalle ore 21 e 10.